Intanto buonasera a tutti, l'argomento che andiamo a trattare, già abbiamo parlato molto di prevenzione, forza e sono stati bravissimi tutti i colleghi, ai quali faccio i complimenti, è un argomento che mi sta molto a cuore perché il nostro progetto a Parma, con il settore giovanile, ha previsto, a partire da una sorta di programma formativo, un'analisi dettagliata di ciò che concerne la prevenzione, discussa sostanzialmente in staff, discussa con il nostro direttore sportivo responsabile del settore giovanile, Luca Piazzi, insieme praticamente a tutti gli altri componenti. Come vedete l'argomento cercherò di sintetizzarvelo facendo vedere anche dei video applicativi, come avevamo già parlato con Andrea, di specificare sostanzialmente quello che era il lavoro di campo. La prevenzione, come ben sappiamo, è un'azione diretta ad impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, in tutti i linguaggi che siano medico, sociologico o giuridico. Cosa molto importante è che da partire dal nostro programma formativo e organizzativo del nostro settore giovanile siamo riusciti a collaborare insieme con tutte queste figure, quindi ognuno ha cercato di portare un contributo fondamentale per poter migliorare e quindi cercare di accurare tutti i particolari dei nostri ragazzi. Io essendo il responsabile dell'area fisica e coordinando quindi gli altri nostri colleghi a partire dall'under 19 e l'under 17 di cui mi occupo personalmente fino ad arrivare all'under 10, più piccolini, abbiamo cercato di curare quelli che erano gli aspetti fondamentali. Il nostro semplice test di screening funzionale, a cui era deputata l'area medica, partiva da degli aspetti che conosciamo tutti e quindi non c'è qualcosa di straordinario. Abbiamo cercato di lavorare sull'evidenza scientifica, evidence base and coaching e soprattutto cercare di andare a interagire tutti insieme per far sì che tutti i ragazzi potessero essere controllati a 360 gradi. In ultima analisi abbiamo cercato soprattutto di effettuare una valutazione funzionale dell'area fisica in riferimento alle differenti fasce d'età, con dei test che conosciamo tutti che venivano effettuati periodicamente per la valutazione dei ragazzi. Ma soprattutto siamo partiti da qui, sì, siamo partiti proprio dal Food and Football Project. Praticamente abbiamo cercato di sensibilizzare la corretta nutrizione e quindi alimentazione dei nostri ragazzi, cercando di fare un forte lavoro sulle famiglie, quindi cercando di sensibilizzare in primis i ragazzi sul corretto comportamento, per esempio all'uscita da scuola, perché sappiamo bene, stiamo parlando di settore giovanile, quindi parliamo di ragazzi che arrivano al campo appena finito il loro percorso mattutino, e quindi lo studio, arrivano lì, qualcuno rischia di non mangiare perché magari non esente la necessità e dice faccio merenda dopo, vi porto direttamente proprio nel campo, quello che è il nostro lavoro, e successivamente magari saltano quelli che sono i pasti fondamentali. Questa sorta di libricino, diciamo, è stato distribuito facendo anche una relazione presentata ai genitori e ci ha dato dei buonissimi risultati, perché comunque i ragazzi hanno interagito. Abbiamo puntato molto sull'aspetto comunicativo. Il nostro database che utilizziamo è Wikirisks Sport Solution, per cercare di comunicare tra di noi, perché fondamentalmente ci ha consentito di fare un lavoro, come vedete, verticale, a partire dalla primavera fino all'under 10 e cercando di fare un link con tutti questi determinati aspetti, a partire dalla registrazione di tutte le informazioni e interagire, integrarle tra di loro. Ogni ragazzo ha a disposizione nel suo cellulare un'app, un'applicazione con la quale noi dello staff possiamo comunicare direttamente con lui e viceversa lui in direzione con noi. Questo ci ha aiutato molto perché comunque, integrando tutti i dati, avevano la possibilità ai nostri ragazzi di vedere anche i loro parametri fisici in tempo reale, quindi delle valutazioni che gli consentissero di poter misurarsi e quindi confrontarsi anche rispettivamente con la propria squadra. Cioè, in sostanza, il lavoro è tutto alla luce del sole. Cioè, quali sono le mie qualità? Per noi il discorso sulla mobilità articolare è stato molto importante per il discorso di un'esecuzione economica del movimento che noi conosciamo, ma nello stesso tempo riuscire a costruire movimenti per lo più armonici. Perché? Dai test di screening che avevamo effettuato, il problema principale che si evinceva, è quello che comunque ragionando come se fossimo a scuola, c'erano delle problematiche, cingolo scapolare, cingolo pelvico, nello stesso tempo dei blocchi a livello articolare, soprattutto nella zona lombare. Quindi abbiamo cercato di ragionare prima sul movimento per costruire l'atleta, per costruire il giocatore. Quindi, prima di andare a mettere, per esempio, dei lavori più specifici che abbiamo già visto prima, ben esposti da tutti quanti, abbiamo cercato di correggere il movimento, lavorando in funzione dei periodi differenti dell'età, rispettando semplicemente la fisiologia della crescita. Quindi, rispettando questi periodi, abbiamo fatto un'impostazione andando praticamente a sfruttare molto il discorso relativo anche al cingolo scapolare, arrivando fino a creare una coordinazione intermuscolare globale, multiplanare, in eccentrica, più avanti. Se vi posso dire, all'atto pratico, nel corso dell'anno, la cosa che è stata più importante, risultato migliore, qual è stato? È stato quello, soprattutto, di partire dai movimenti funzionali di base. Ci siamo basati su metodo Functional Primitive Movement del VTA, abbiamo fatto una ricerca di quello che c'era in letteratura, abbiamo cercato qualcosa che piacesse ai ragazzi, che comunque li coinvolgesse, che comunque li riportasse a fare quei giochi, che ha presentato bene il professor Pincolini prima, che loro non fanno più. Quindi qualcosa che potesse essere divertente e motivante. Nello stesso tempo, i nostri protocolli preventivi erano distribuiti in questo modo, 20 minuti prima di tutti gli allenamenti, e una fase di post-training. Ma la cosa molto importante, che abbiamo evidenziato sempre, è il movimento corretto del proprio corpo, e abbiamo lavorato molto sull'insistere sulla meccanica respiratoria. Perché? Perché comunque i ragazzi avevano necessità, in quei momenti, come poi spesso sicuramente molti di voi vedranno, di andare a recuperare quei deficit mancanti. Risultato quale è stato? Vi dico sostanzialmente. Abbiamo coinvolto, se all'inizio glielo dovevamo imporre, venite in palestra, facciamo il nostro lavoro, insistiamo, cerchiamo sostanzialmente di venire tutti insieme, in realtà sono cominciati a venire da loro. Quindi ognuno ha cominciato ad avere, col passare del tempo, un proprio concetto di approccio nuovo a questa situazione. Perché non è facile, molti ragazzi arrivano all'ultimo secondo, chi ha delle problematiche, quindi capita che qualcuno salti il lavoro. E abbiamo cercato di strutturare dei giorni in cui lo facevamo tutti insieme, direttamente in campo o in palestra. Abbiamo sfruttato anche questi protocolli, abbiamo dato un'opzione in più, parlando con gli altri miei colleghi e collaboratori. Abbiamo detto, guardate, possiamo utilizzare anche protocolli preventivi FIFA 11 Plus o FIFA 11 Plus Kids, che sono stati sfruttati alcune volte nel miglior modo possibile per proporli ai ragazzi. Ma per di più abbiamo ricercato, sin dai più piccolini, il movimento. Adesso vi farò vedere degli esempi molto pratici. Per esempio il Child Squat, esempio molto pratico. Vediamo nello sviluppo quello che è stato. Semplici movimenti che poi conoscerete, li avete applicati sicuramente. E quindi la ricerca di questo lavoro dei glutei e delle anche. Perché abbiamo notato dei blocchi importanti a livello delle anche, dei blocchi importanti a livello di colonna. Un altro esercizio, qui stavamo alla parte iniziale, lo Spinal Wave, faccio vedere direttamente proprio dall'atto pratico in palestra. Quindi esercizi molto semplici, ma soprattutto andare ad insistere specificatamente, io qui apro una parentesi, vi faccio vedere una parte di esercizi. Poi ne abbiamo modificati tanti, ne abbiamo fatti altri ancora. Questa è una base iniziale. Dove abbiamo curato la corretta esecuzione del gesto. Fino ad arrivare a un esercizio, secondo me, molto importante, che è la shin box position. La shin box position parte tutto dal movimento del gluteo. Se andiamo a vedere praticamente l'esecuzione corretta, abbiamo posto molta attenzione anche alla fase iniziale del movimento. Quindi abbiamo insistito, ci è voluto tanto tempo, molto tempo, però siamo stati tutti uniti per cercare di raggiungere l'obiettivo. Quindi, che abbiamo fatto? Allora, primo esercizio. La spinta parte direttamente dal gluteo. Quindi una posizione corretta che facesse sì che ci fosse attivazione glutea e mobilità dell'anca. Premetto, sul nostro atleta c'erano dei blocchi importanti a livello dell'anca e ha trovato molto giovamento da questo punto di vista. Nello stesso tempo, altri esercizi, come il soup in bridge, ci hanno permesso di insistere sul cingolo scapolare. Quindi, l'obiettivo qual era? Cercare di utilizzare al massimo tutte le tipologie di esercizi che ci consentissero di mettere in azione tutte le catene. Soprattutto lavorare fortemente, in maniera dinamica, attiva, secondo il metodo VTA, per quanto concerne il discorso delle catene cinetiche muscolari. Andiamo a vedere il soup in bridge. Posizione difficile all'inizio, sostanzialmente, quindi corretta meccanica respiratoria e soprattutto la rotazione delle spalle per cercare di mobilizzare bene l'articolazione del cingolo scapolo merale e favorire il movimento e la chiusura anche delle scapole e cercare di avere più possibile una corretta posizione e soprattutto una corretta postura per gli esercizi successivi. Andando sempre avanti, il V-squat. Il V-squat, esercizio che viene utilizzato anche nella valutazione funzionale di inizio stagione per vedere anche come il ragazzo si comporta dal punto di vista posturale, se riesce ad eseguire questo esercizio. Io credo fortemente in una cosa e credo che anche voi siate d'accordo in questo. Non posso costruire una casa se non ci sono le basi. Non posso pensare di fare esercizi altamente complessi con ragazzi, soprattutto ragazzi che conosciamo bene, che possono venire direttamente dalla scuola, che a livello motorio magari non sono il top del top, perché magari devono migliorare. Cioè per aiutarli bisogna inserirli prima il movimento e poi costruire la fase successiva. Il semplice V-squat insegnato a muro, vediamolo nelle due posizioni differenti, con le difficoltà del caso, perché ci sono dei compensi, ci sono delle cose da lavorare, io ho lasciato che fosse fatto nella maniera più libera possibile. Soprattutto il controllo importante anche dell'articolazione delle spalle. Quindi è un esempio classico di quello che è l'esercizio. Esempi classi di esercizi in campo con il mister. Quindi abbiamo portato avanti altri esercizi, scusate se si sente il rumore, ma è la giornata di vento, se si può abbassare cortesemente il volume, grazie. Quindi come vedete, semplici esercizi. Dove ci sono degli errori da correggere, perché l'ho fatto anche volutamente per far vedere il discorso dei compensi che ci sono in molti ragazzi, che potrebbero farli ancora meglio e soprattutto andare a ricercare quella che è la corretta esecuzione del movimento e del comportamento motorio. Quindi ogni volta abbiamo cercato in tutte le categorie, questa è la nostra under 19, di andare a lavorare in base alle loro capacità su quelli che erano differenti aspetti. Non abbiamo trascurato nemmeno gli esercizi tecnici, scusate la partenza del primo esercizio, dove praticamente si è lavorato con semplici esercizi di tecnica applicato all'ostacolo. Perché ci siamo accorti di una cosa, il semplice ostacolo, la semplice mobilità fatta con gli ostacoli per molti era, tra virgolette, con i ragazzi, sembrava poco divertente. Quindi abbiamo inserito la palla con i suoi differenti aspetti, sempre confrontandoci con il mister e con i due mister che ho nella primavera e con gli altri delle altre squadre per poter fare questo lavoro. Quindi differenti interpretazioni e differenti modalità, quindi direttamente nel campo come esecuzione e come esercitazioni specifiche con la palla. Vado avanti, la disperazione di questo bambino per tirare su il bilanciere. Io ho ragionato come se, e abbiamo ragionato, io ho ragionato nel mio e insieme con gli altri, abbiamo ragionato su cosa potevamo veramente costruire a livello di forza. Io riparto sempre da questo aspetto, da questa slide che avete vista prima. Nello stesso tempo, per me la componente e per noi è stata biomeccanica, anatomia e fisiologia di base, movimento, gesto tecnico corretto e arriviamo al sovraccarico, se no ci facciamo male. Il problema è tutto lì, il problema è cercare di insistere, secondo me nel settore giovanile, a partire sin dai bimbi rispettando, come già ho detto, le fasce d'età, le corrette fasce d'età, sulle prime componenti in verde. Il movimento e il gesto tecnico corretto è come se fosse un semaforo, è il giallo, il rosso è il sovraccarico, dove io vado a raggiungere un livello di rischio, ok? Perché comunque devo controllare un bilanciere, devo controllare un attrezzo che mette in difficoltà il mio corpo. Quello che potrebbe essere l'allenamento della forza, per esempio questa slide dico, non c'è nulla di nuovo, secondo me dal confronto possono minere tante cose, corretto sviluppo della mobilità articolare, core training, andature preatletiche, abbiamo insistito fortemente con esercizi nei più piccolini, incentrati su questo aspetto, abbiamo un preparatore atletico nel settore giovanile di basi più piccolini, che si occupa anche di componenti di psicomotricità, quindi abbiamo insistito a far lavorare i bimbi anche a piedi scalzi, anche quando pioveva, quindi abbiamo cercato di sensibilizzarli la pianta del piede, far sì che comunque avessero maggiore contatto a terra, perché tanto la nostra sfida della vita è vincere la gravità, quindi siamo incollati a terra per quel motivo. Utilizzo dei piccoli attrezzi, abbiamo recuperato il discorso della funicella, dei cerchi dei coni, i principi di Alain Piron, la piometria, agility training, allenamento della forza, dopo possiamo parlare di quello che è tutti questi elementi che ben conoscete, che sono già stati citati precedentemente, per poter cercare di raggiungere l'obiettivo in funzione anche delle disponibilità che avevamo. Le disponibilità che avevamo fondamentalmente sono bilancieri, flow bag, flying, e abbiamo cercato di portare pian piano i ragazzi, dopo molti mesi, a lavorare con bilanciere libero, perché credo, anche qui fortemente, abbiamo creduto fortemente, che il controllo motorio nell'esecuzione del gesto debba essere fatto nel miglior modo possibile. Questo ragazzo è riuscito dopo dieci mesi ad eseguire pian piano l'esecuzione dello squat, che deve ancora sì migliorare, ma nello stesso tempo ha avuto la possibilità di esprimersi, perché comunque nel tempo aveva paura, vi dico all'inizio, le sensazioni del ragazzo di fare lo squat al muro, perché non aveva la corretta tecnica, quindi abbiamo fatto tutti insieme un lavoro specifico su queste cose. E abbiamo cercato di parlare subito con i fisio, quando magari non ero io in palestra o ero sul campo, di aiutare sempre i ragazzi durante l'esecuzione degli esercizi. Abbiamo insistito molto su anche le trazioni alla sbarra, quindi con degli esercizi anch'essi complementari, quindi corretto utilizzo del corpo. In questa parte abbiamo lo step up combinato con l'esercizio alla funicella, perché credo anche che l'aspetto dell'utilizzo dei piccoli attrezzi sia un elemento chiave che possa migliorare la velocità esecutiva anche nei ragazzi dal punto di vista coordinativo e motorio. Quindi è molto importante curare, secondo me, dei particolari che possono aiutarci. Quindi esecuzione. E in più abbiamo cercato di fare un lavoro per aiutare i nostri ragazzi incentrato su parte la determinazione del picco di crescita, il pH velocity, ma anche sul pH adult, pic 8 adult, vedere quanto potevano crescere in altezza, prendendo delle informazioni, anche delle caratteristiche strutturali e fisiche, dei genitori. Quindi mamma natura, diciamo madre natura, cosa ci poteva dare sui nostri ragazzi per capire anche come stavano sviluppando e stavano crescendo. Quindi a 360 gradi abbiamo insistito. Nello stesso tempo, con il nostro mister della primavera, Cristian Iori, abbiamo proposto anche delle esecuzioni con la palla di lavori che potremmo dire funzionali, che possono aiutare. Può partire per favore il video? Il discorso del concetto di memoria motoria. Lavori molto semplici, però lavori che comunque potessero aiutare i ragazzi a corretto utilizzo dei piedi. Il discorso del cambio di direzione, il discorso della corretta posizione del corpo. Secondo me sono tutti esercizi che possono essere perfettamente integrati nel lavoro che noi andiamo a proporre ogni settimana. E quindi io dico sempre utilizzare la nostra fantasia per poter... Può partire il video per favore qui? La nostra fantasia, diciamo, migliore è far sì che abbiamo degli esercizi che possono aiutarci nel raggiungere l'obiettivo proposto. Quindi per esempio una scalata con fisso la palla e quindi praticamente c'è l'esercizio di scivolamento che possono essere utilizzati anche per ruoli. Quindi mi ricollego al discorso che facevamo precedentemente. Può partire il video per favore qui? Discorso del colpo di testa con orientamento del corpo. Abbiamo avuto una stretta collaborazione, devo dire, tra tutte le componenti. Secondo me è stata l'arma, dico, vincente, no? Perché comunque tra tutti noi c'è stato la volontà di aiutarsi e capire le reali necessità dei ragazzi. Questi sono sempre altri esercizi simili, altro esercizio di scalata. Vediamo per favore questo qui. Quindi il corretto orientamento del corpo che sicuramente conoscerete, però la cura dei particolari. Quindi prima ho impostato il movimento, correggo, vado a inserire via via gradualmente degli esercizi con maggiore difficoltà. La semplicità è stata la parola d'ordine, quindi altro esercizio, possiamo vedere il video. Guardiamo con attenzione, movimento, partenza della palla e controllo sempre fisso della palla, i concetti che dicevamo di memoria motoria, neuroni specchio e quant'altro. Quindi con conclusione a rete che si può fare in diversi modi. In sostanza, quali sono state i numeri? Perché alla fine contano i numeri. Abbiamo detto, cosa c'è successo sostanzialmente a livello di infortuni? Praticamente abbiamo notato che il legamento crociano anteriore, abbiamo notato che i menischi non sono stati minimamente colpiti quest'anno. Ma non è che, dicevamo, guardate, abbiamo fatto chissà cosa, abbiamo cercato di rispettare la biomeccanica, la fisiologia e quant'altro. Ma soprattutto gli hamstring, vi faccio vedere l'under 19, poi a scalare ci sono anche le altre categorie, non hanno avuto i grossi problemi. Io qui ho evidenziato il numero di partite che ci sono state, le assenze medie, secondo i dati poi di letteratura. Nello stesso tempo abbiamo avuto più problemi nell'under 17, con alcuni ragazzi che strutturalmente avevano altre problematiche di altro genere, di altro tipo, e quindi abbiamo dovuto aiutare in differenti aspetti. E così via tutte le altre categorie. Abbiamo notato una cosa, se vuole essere utile a tutti quanti. l'attenzione alle calzature, ossia i ragazzi tendono a cambiare spesso le scarpe. Succede che praticamente arrivano al campo, un giorno ce l'hanno una di un tipo, un giorno una di un altro. Costantemente nel tempo abbiamo visto che c'era la tendenza ad avere maggiori patologie da sovraccarico, quindi fastidio al tendine d'Achille, fastidio al tendine rotuleo, fastidio alla pianta del piede, e ci chiedevamo, sono le superfici probabilmente o sono le scarpe? Siamo andati a indagare questi ragazzi e vedevamo che costantemente nell'arco di una settimana, dieci giorni, cambiavano le scarpe, dalla partita a quant'altro. Ma magari cambiavano le scarpe che non erano le loro stesse scarpe che avevano già utilizzato due o tre volte. Le cambiavano e prendevano scarpe nuove, quindi costantemente dovevano riorganizzare il piede all'interno della scarpa da calcio. E questo è un problema, siamo accorti di questa cosa qua, quindi se può essere utile che magari lo sapete, però intanto queste sono le altre categorie. Nelle conclusioni, la raccolta dei dati per noi è stata fondamentale perché abbiamo potuto interagire mediante il nostro software network, Wikirisk, staff medico e staff tecnico c'è stata una corretta comunicazione, quindi una sorta di comunicazione vincente con i giocatori perché comunque abbiamo interagito in ogni modo. Per loro l'app è stata qualcosa di straordinario per un motivo, vi dico che loro cercavano di interagire sempre con l'app e di comunicare con noi per sapere le informazioni per esempio dei dati di partita, quindi gli inviavamo i dati fisici della partita, gli inviavamo le clip video della partita e i ragazzi erano molto, sono stati molto molto contenti perché abbiamo sfruttato il mezzo che purtroppo, io dico purtroppo, utilizzano spesso oggi che è il loro cellulare o il loro tablet. Nello stesso tempo abbiamo avuto riunioni tecniche giornaliere costanti, staff tecnico e medico, il programma si decide insieme la decisione presa su cosa fare in maniera esatta sull'atleta infortunato perché abbiamo da gestire anche l'atleta che si infortunia, quindi abbiamo visto quello che è successo, quindi bisogna agire tutti insieme in un'unica idea comune per cercare di raggiungere l'obiettivo finale. Le riunioni tecniche settimanali tra gli staff responsabili del settore giovanile e responsabili area performance, abbiamo parlato insieme, ci siamo confrontati, abbiamo cercato di capire dove dover andare e dove migliorare, a partire da un metodo come vi ho detto prima sul nostro programma formativo integrato che quindi rispecchia quelle che sono il lavoro sulle nuove metodologie e quant'altro con figure dei preparatori atletici a 360 gradi. Come vi ho detto già la comunicazione dell'app, quindi il controllo dell'allenamento, ognuno poteva inserire la scala del recupero e della disponibilità d'allenamento, la scala 3 prima di ogni allenamento sull'app, la potevamo conoscere tranquillamente noi sul nostro dashboard, sulla nostra piattaforma online e in più mettevano la scala di Borg alla fine di ogni allenamento con le loro valutazioni e noi mandavamo le informazioni relative all'allenamento, è capitato spessissimo che i nostri ragazzi ci dicevano guarda voglio vedere come sono andato oggi in allenamento, quindi mandavamo o frazioni allenamento o l'allenamento l'esercitazione che loro andavano a chiedere, quindi interazione costante rispetto dei ruoli fondamentali e quello che è stato importante quando siamo ripartiti il primo luglio 2017 per questa avventura tutti insieme, la società ha tutte le informazioni su tutti i suoi giocatori, un censimento completo delle squadre, quindi per far sì che i ragazzi possano crescere nel miglior modo possibile e anche i giocatori che vengono osservati vengono censiti e gli vengono rese date delle informazioni dirette alla società in maniera globale a 360 gradi. Io ho risintetizzato tutto quello che per me è stato e per noi è stato il lavoro perché il giocatore come ho visto e come è per tutti è al centro di tutta questa situazione. Le frecce indicano questi elementi, lo stile di vita, la società, lo staff medico, lo staff tecnico ma soprattutto la prevenzione è questa, oltre agli esercizi che noi abbiamo visto, abbiamo fatto, tutti che vi ho fatto vedere, che vi abbiamo approfondito, li potete approfondire e quant'altro, ne potete creare di milioni e milioni. Secondo me l'interazione fondamentale è stata tra tutte le componenti, anche sbagliando, perché sbagliando si impara, cercando di migliorare e lavorando sull'errore. There is no winning without hard work. Questa è una frase importante. Io ringrazio intanto la società che mi ha permesso di essere qui e nello stesso tempo il CEO Luca Carra, Daniele Faggiano il direttore della prima squadra, il direttore del settore giovanile Luca Piazzi e tutti i mister con i quali collaboro, lo staff medico, lo staff tecnico, i colleghi preparatori e i giocatori che ci permettono di fare il nostro lavoro. Io ho finito qui e grazie dell'ascolto. Grazie per la relazione, chiamerei Francesco Perondi per le conclusioni. Grazie.